Ah beh, ok amici, abbiamo avuto occasione di vedere il nostro campione che si allena e fra pochi secondi assisteremo a un appassionante incontro di box. Oh no, non credo. E invece sì. Ma perché ti sei conciato così? Secondo te perché l'avrei fatto? Per non metterle dita nel naso? Senti, non posso lasciarti combattere contro Junior, ti farà secco. No, sta tranquillo, non mi lascerò fare troppo male perché dopo voglio darti due di questi sul tuo naso. Ok Junior, apri la bocca da bravo. Non mangiarlo, hai capito? Non mangiarlo. Ma ho capito qual è il tuo piano, tu vorresti che mi sentissi in colpa e salissi sul ring al tuo posto, ma non ci casco. Se vuoi combattere contro Junior, va e torna vincitore. È quello che ho deciso. Adesso aiutami a scavalcare le corde. Lamont, aiutami ad alzarmi. Grazie. Ehi, Herbie. Herbie, senti, non potresti farlo ragionare. Senti, Lamont. Io ci ho provato. Ma vedi, lui vuole assolutamente comprarti quelle gomme. Come fai a saperlo? Ehi, è stata la prima cosa che mi ha detto quando io gli ho proposto questo affare. Ha detto che la tua vita era in pericolo con quelle gomme e che voleva fartele cambiare. Così, ha detto. Dammi i guantoni, pa. Eh? Prendi, figliolo. E grazie tante. Lo sai quello che mi chiedi di fare, vero? Mi chiedi di farmi ammazzare. Ti prometto che non te lo chiederò più. Bene, conoscete le regole. Ok, sì. Giugnolo, voglio che tu colpisca duro. Molleggia sempre e non cedere. Senti, figliolo. Colpiscilo piano. Colpisci piano. E quando ti dà un pugno in faccia e ti colpisce al naso, cerca di sanguinare. E quando ti dà un pugno con forza nello stomaco, piegati e lancia un bell'urlo. E poi, quando ti mette K.O., cerca di non muoverti. Ok, figliolo? In bocca al lupo. Bene, conoscete le regole. Quando batto le mani, via, partite. Meglio non pensarci. Ehi, figliolo, un momento. Ehi, Lamont, ti senti bene, figliolo? Appoggiati a me, vieni. Tu brutto pezzo di idiota. Hai visto cosa hai fatto al mio ragazzo? Come hai osato? Nessuno può trattare così un sanfor de' vivere. Guarda come le... Adesso ti faccio vedere io. Vatti sotto. Avanti. Vatti sotto. Sotto, avanti. Io schivo. Ehi, guarda. Hai visto lì? C'è una ciambella fritta per te. Ehi, guarda. Ti faccio vedere io. Ti faccio vedere avanti. Fred, sei impazzito? Sei impazzito? Hai mandato a monte tutto? Quando quel bisonte ha colpito il mio Lamont, non ho potuto trattenermi.